Come pronunciato nelle previsioni meteo per la giornata odierna, giovedì 10 gennaio, la neve è giunta anche sulla città di Cosenza, impiancata nel corso della notte alle prime luci dell'alba, con fenomeni che si sono intensificati in mattinata. Senza dubbio questa previsione difficile ed eccezionale per una nevicata che ha interessato anche l'Interland della città dei Bruzi e della Valle del Prati, ad appena 250 metri sul livello del mare, è frutto della particolarità orografica del territorio, che grazie alla presenza di monti intorno alla valle ha impedito ai venti di destabilizzare la colonna d'aria, e grazie all'abbondanza di precipitazioni ha potuto favorire una riduzione delle termiche previste e consentire ai fiocchi di neve di giungere al suolo. Tanta neve anche in presile sui monti, con accumuli che diverranno via via più consistenti nel proseguo del giorno, decisamente più ingenti sui versanti orientali della catena costiera, dell'Orso Marso, del Pollino e dell'Asila.